Se ne è andato il guerriero del ring. È morto nella notte Luigi Minchillo, figura iconica del pugilato pesarese, nonché protagonista assoluto della box italiana e internazionale negli anni 70 e 80. Si è spento nella notte in seguito ad un malore fulminante, un sospetto aneurisma accusato in casa nella tarda serata di domenica prima del disperato trasporto al San Salvatore di Pesaro. Minchillo aveva 68 anni, era originario della provincia foggiana ma per oltre mezzo secolo è stato adottato da Pesaro. Una città che ha portato alla ribalta sportiva internazionale e in cui è stato il catalizzatore per tanti giovani che volevano avvicinarsi ai guantoni attraverso la sua palestra Minchillo Box. Un grande allenatore dopo essere stato un grandissimo pugile. Da dilettante partecipò alle Olimpiadi di Montra del 1976 da professionista in anellò 11 anni nei pesi leggeri e Super Welter. Una carriera da 60 incontri con 55 vittorie di cui 31 per KO. Una carriera in cui ha affrontato tutti i mostri sacri della sua epoca come Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, Thomas Herz, Maurice Hope e Mike McCallum. Una carriera che ebbe una prima svolta proprio a Pesaro quando nel 79 diventò campione italiano nella categoria Super Welter battendo Clemente Gessi per KO. Due anni dopo divenne campione europeo sconfiggendo l'algerino Luis Sacariè ai punti sui 12 round con verdetto unanime. Nell'84 combatterà due volte per il titolo mondiale WBC. A Detroit dove venne battuto dal campione statunitense Thomas Ernst e a Milano dove cedette per KO alla tredicesima ripresa col giamaicano McCallum. La notizia della morte di Minchillo ha scatenato oggi una pioggia di messaggi di commozione e cordoglio. Tantissimi, quelli dei pesaresi, compreso il sindaco Ricci, al pari di quelli della sua terra natia di San Paolo di Civitate fino al mondo della box italiana. Cordoglio che è stato espresso dal presidente federale D'Ambrosi, dal presidente regionale Romanella e dal delegato pesarese Pietroselli. Minchillo lascia la moglie Cristina e tre figli Stefania, Paolo e Sabina. Mercoledì alle 15 ci sarà il funerale in rito civile all'interno del parco Miralfiore.